Ciao a tutti, io sono Pasquale e lavoro al pastificio di Martino a Fico Italy World. Sono tantissime le cose che si preparano, ve lo lascio immaginare, ma il mio cuore batte per tre cose, che sono affrittate e mancare uno, quindi la pizza di pasta fatta con pasta avanzata da giorno prima o riciclata da una vecchia ricetta, il casatiero napoletano, assolutamente immancabile padrone di questa festa, e la regina indiscussa, la pastiera napoletana. Io ho poca memoria da quando lavoro delle Pasque passate in casa, e quindi approfittiamo di questa occasione per stare con i nostri cari, ci divertiamo e prepariamo qualche cosa di buono. Auguri di una santa e serena Pasqua. Mi raccomando, non sbagliate sulla risposta che immancabilmente sarà anche a te e famiglia. Un bacione grande a tutti, ci vediamo presto, Pasquale.